bella sbregola ragazzi mamma mia siamo qui niel e riuke siamo qui chanel per una grandissima puntata innovativa super innovativa perché come vedete riuke che è lui io sono niela ciao a tutti ciao ha un joystick in mano ed è in piedi in piedi what the fuck come stai andando? come stai andando? ripidi dai no va bene dai comunque alla ricerca di non inizi tanto va così va così guarda la fortezza comunque siamo qui quest'oggi per un grandissimo video innovativo speriamo che vi piaccia noi siamo niel e riuke appunto in tricer chanel e siamo qui oggi per questo video lo dico per la quarta volta ma mia per scopo è connessione fantastica in webcam in piedi in piedi il concecchino che non lo so usare ma ma che cazzo stiamo facendo? io ho un pistoletto e il muoio vabbè non importa questo video lo vorremmo portare sulla grandissima community speriamo che ci dia un'opportunità insomma di anche farci un po' di opportunità e farci conoscere un po' in youtube divertirci insieme a voi sul mondo di youtube quindi ringraziamo a tutti non lo farete mai ma non siete sbagliati un cazzo noi lo facciamo divertirci mettetemi iscrivetemi anche se non lo caricano su Mellagodo su qualsiasi canale di merda vaffanculo noi lo facciamo nel nostro vaffanculo se magari troviamo un nemico facciamolo sto praticamente facendo una mappa così a caso non sarebbe una brutta idea comunque cosa stai a dire io che cosa stai a dire? headshot headshot uno l'ho preso headshot oh mh mh c'è un altro pistoletto al contellato non so cosa sto facendo ti smuovi cazzo perchè è un joystick allora ha tipo 12 anni sto joystick e praticamente qualsiasi cosa premi lui faccio un cammi arma ho ottenuto anche un spuaccio anche quando si toccano i due analogici insieme quando si toccano fanno quel cazzo che vogliono comunque siamo qui e Luke non riesco a trovare il scopo della partita è finire in positivo magari troverà anche uno intanto comunque lo scopo sarebbe fare no finire in positivo appunto giocando in piedi cosa non semplice eccolo qua mamma mia col 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 preziso guardalo qua wow ma da fuoco ma da fuoco ma da fuoco ma da fuoco porca puttana tra i tra i punti insieme ma che mi ha morto e sta saltando da solo perchè i piedi guarda coltello ecco la mia 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 fredda la mia fredda va così l'hanno già assiso a destra vado a destra vado a destra no no a sinistra a sinistra eccolo qua eccolo qua bambino l'hanno già assiso fanculo anche i miei compagni non importa ce la faremo ce la faremo ce la faremo solo tre ce la fa vado dicendo quindi che ringraziamo me la godo army se per caso caricherà il nostro video spero di si speriamo di proporre più che altro cosa di innovativo e divertente allo stesso tempo time time inglese 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 ma comunque se magari fai una king ma porca ma cara dove sono i nemizi mappe di merda col bbc costa lo sapete ormai tutti sono enormi ma che cazzo è un coso dietro il pilastro ma parli al pollice ma parli al pollice ma parli al culo ma parli al culo ecco cos'è sto morendo di caldo no ma comunque provate voi a giocare in piedi provate già lo seduti è una merda pensate in piedi con la tv ma dai mi ha uno ma perché sono così scarso non lo so sinceramente non lo so comunque tra l'altro perché di più di più perché mi ha dato due pollici di merda va bene non so giocare a code non so giocare a code lo so ti sto nominando errato vai bam ero preso fa il culo comunque comunque stavo dicendo Stai dicendo? Cosa stai dicendo? Mamma mia! What the fuck? C'è solo quello dei chilesi in effetti Vabbè, 5 e 8 Hai preso 6? No, ho preso 6 e dopo, la verifica dopo Ho preso 4 e mezzo No, 4 e 5 dai Saltisci Non importa Vai, vai, vai così via, sbolega Sono tutti i miei, guarda il cuore No, stai dicendo Con tutti i costi, come sapete, mappe enormi Bastissime Perché non si trova in caccia Infatti, come vediamo, siamo già 46,33 e dai 5,8 Se non vedo male Ah, no, sto dicendo che il problema di giocare in piedi a casa mia È che la tv è abbastanza bassa Non è un problema No, no, sinceramente Cioè, potrebbe essere Cioè, potrebbe essere anche la tv più piccola Comunque, mi piacerebbe sapere Voi mettete like a questo video Se vi piace Passate nel nostro canale, iscrivetevi E se vi piace, scrivetelo male su un commento Che potremo fare il secondo episodio Esatto, perché visto che questa è la prima puntata Novità della giornata Esatto, mi piacerebbe essere venuta così E abbiamo detto, facciamoli i piedi Cazzeggiamo, facciamo un video di menta Perché alla fine... Mamma mia! Mamma mia! Ma... eccolo qua Eccolo qua, dov'è? Eccolo qua, non lo so Suspanse, suspanse Non so dove sto andando Ti giuro, si trova pensato nel gameplay Nel commentary E quindi il gameplay mi farà abbastanza cagare Ma non è quello che... Porta! Non importa, eccolo non è così BAM! Lo sapevo... BAM! Mamma mia mia BAM! No! No! Fuck! Rivoluzioneremo... Rivoluzioneremo anche quello Metteremo webcam in grande E gameplay in piccolo Mamma mia! Noi siamo fottuti Fottuti i geni Tutti i geni Tutti i geni Mamma mia Mamma mia Che co... Che nabbo Nabbo di merda Solo i nabbi giochano Camperistico atomico Chi è che gioca col cecchino Va in giro così Sbabbama Non uccide nessuno Io Perché sono scarso Perché sono scarso Guarda! Da dietro! Lo son toghi dall'altra parte Mi uccide da dietro Ma che cazzo è? Sta partita dura E' COFORE! Non finisce più Non ce la vado più a stare in piedi Porca puttana Momento di pausa Momento di pausa Adrenalina Cala Abbiamo finito la poca La partita Dobbiamo... Dobbiamo... Aspettate Fai così Vai 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 Dove sei? Dove sei cazzo? A destra! Sì Ha morto 0-1800 Che cazzo sto dicendo E' con la... 1-9 Eccolo 1 Ecco uno Eccolo Ammonia Preso Ne voglio un altro Dove siete? Pezzi di merda Pezzi di merda Pezzi di merda Cosa忍 a caso Così perché si preme tutta da solo Mi stava.. ma di destra a far sta merda bam, così 2 ma fa culo fa culo 360, così, tutto bene momenti, questi bam mancano 4 uccisioni Dio Dio e non va su ma muoviti ma che cazzo è ma fa culo fai questa final kill la faccio io ma è l'ultima ma sei buon ma abbiamo vinto l'importante è quello se noi vinci vai a partecipare va a far culo bella sbrigolla abbiamo vinto grazie di farlo abbiamo vinto bella sbrigolla ragazzi iscrivetevi trice ciao bella sbrigolla bella sbrigolla